Partirà dal centro storico di Caltanissetta il prossimo 10 maggio alla volta dell'Etna la sesta tappa della centunesima edizione del Giro d'Italia. Mercoledì pomeriggio infatti si è tenuta la riunione organizzativa tra l'amministrazione comunale e gli organizzatori della manifestazione che collega 194 paesi in tutto il mondo e richiama migliaia di presenze tra i partecipanti e gli addetti ai lavori. Lunedì 22 gennaio intanto per celebrare l'inizio delle manifestazioni per la tappa nissena del Giro d'Italia in contemporanea con altre città coinvolte la Fontana del Tritone alle ore 19.30 si illuminerà di rosa. C'è stato un primo tavolo tecnico con gli organizzatori il 10 di maggio il Giro d'Italia passerà da Caltanissetta. È un'organizzazione veramente maestosa. Ieri abbiamo avuto proprio un rapporto diretto, abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire da dove deve passare questo Giro d'Italia o da dove deve partire. Fortunatamente la proposta dell'amministrazione è stata accolta dall'organizzazione, quella di organizzare tutto in centro storico perché è una location molto bella, ci hanno detto, e hanno fatto l'impossibile per organizzarla in questo senso. Però chiaramente ora tutto deve passare al vaglio della prefettura, quindi della questura, per le autorizzazioni necessarie successivamente a quello che è il decreto minnito ormai conosciuto, perché laddove ci sono assembramenti bisogna garantire una serie di sicurezze che la città deve avere. La città deve essere sicura. L'evento è veramente interessante, quindi tutto si concentrerà in piazza Garibaldi dove partiranno i corridori e ci sarà un palco sotto la statua di Umberto dove firmeranno prima di partire. La cosa pure interessante è che ci saranno 22 autobus che saranno collocati in viale Regina Margherita dove effettivamente è una vera e propria location dove si realizzerà quella parte del Giro d'Italia dove i corridori riusciranno ad avere tutto quello che è necessario per partire e fare la corsa. Quindi avremo i meccanici, avremo un'organizzazione relativa ai gadget che verranno venduti, mentre per quanto riguarda le magliette e tutto quello che è determinante in questo senso, per quanto riguarda l'organizzazione in senso stretto avremo poi un'organizzazione che prenderà tutta la piazza. Faremo in modo di garantire una partecipazione più ampia possibile. La preoccupazione anche degli organizzatori era quello che proprio a Caltanissetta, essendo un luogo centrale della Sicilia, il rischio è quello di avere troppa gente, quindi dovremmo essere molto cauti in tal senso.